Moda, design, architettura e stile. Il mito Zagato in una serie mozzafiato di 10 puntate. Zagato nasce nel 1919 da un'idea di Ugo Zagato che trasferì l'esperienza aeronautica al mondo delle auto da corsa. Quando una vettura diventa sogno e il lusso si veste di romanticismo. Ricordo ancora quando vidi quella vettura per la prima volta in fotografia. Me ne innamorai subito. Quando poi seppi che l'unico esemplare era stato distrutto in un incidente, beh, capì che ci voleva un miracolo. Da una foto alla rinascita. Porsche Speedster Zagato. La clonazione di un mito. Non ci potevo credere. L'auto era lì davanti a me e tutto era partito da una semplice fotografia. Il mito Zagato raccontato attraverso i marchi che hanno fatto la storia. Cinque puntate monografiche dedicate solo a loro. Aston Martin e Bentley, Ferrari e Maserati, Alfa Romeo, Lancia e Porsche. Ogni Zagato è raccontata dalla sua firma. Dal pret-à-porter Zagato alla haute couture della Zeta. Siamo la sartoria dell'automobile. Portiamo lo stile e la classe italiana in tutto il mondo. Dall'idea alla vettura seguiremo l'ambiziosa richiesta di un cliente speciale. Una Bentley in esemplare unico. Zagato è anche un mondo al femminile. Una Zagato è più desiderabile di qualunque accessorio da collezione. Le donne al volante di Zagato. Quando la femminilità viaggia su quattro ruote. Il nostro design è minimalista. E' razionalista al tempo stesso. C'è molta tecnologia per progettazione, progettare. Ma ha molta manualità nel realizzarlo. Un viaggio attraverso la storia, il cuore, i protagonisti. Che hanno vissuto e vivono sotto un unico mito. Zagato.